Buongiorno a tutti, bambini e genitori. Sono sola a fare questo video ma è come se fossimo tutte presenti, solo che il momento non ce l'ha consentito e quindi vi parlo io. Niente, ci è dispiaciuto molto aver lasciato senza neanche un saluto, ma purtroppo la scuola ha chiuso così dalla sera alla mattina e non ci ha dato tempo per organizzare altro. Da oggi parte questa nuova forma di didattica, una nuova avventura che vede coinvolti sia noi che voi e quindi ci sarà da darsi una mano tutti. Niente, noi questa settimana abbiamo già cominciato un po' ad organizzare un nuovo tipo di insegnamento, un nuovo modo di mandarvi i compiti e quindi adesso sta a voi guardare cosa abbiamo noi inserito nel registro elettronico e ai vostri genitori è stato fatto un video nel quale si spiegava come entrare e come accedere alla didattica. E voi bambini troverete ogni giorno, in base più o meno all'organizzazione che avevamo a scuola, quindi all'orario che avevate a scuola, troverete del materiale, di quelle materie lì e vi verrà indicato più o meno entro quando rifarlo e rinviarcelo. Vi dovrete far aiutare un pochino dai genitori le prime volte, poi magari diventerete bravissimi e farete tutto da soli. Bene, niente, vi saluto tanto calorosamente sperando di rivedervi tutti i belli pimpanti più presto possibile. Un abbraccio!